Fabio Di Rienzo, una giornata speciale anche perché in città si è diffusa la voce che torna ad allenare l'Isernia Calcio. Questo per gli femmini è veramente un bel risultato. Beh sì, per me sono giorni intensi, pieni di gioia, giorni belli per la mia attività, la mia famiglia. Abbiamo fatto tutto questo in memoria di mio padre, abbiamo dedicato questo locale a lui, ci ha lasciato grandi insegnamenti e quindi per noi abbiamo realizzato un sogno che lui aveva dentro da anni e di questo siamo veramente contenti. Per l'allato sportivo per me è un onore, Isernia ce l'ho nel cuore, ho lasciato Isernia in maniera per me un po' amara e quindi tornare a casa mi rende felice. Con quali obiettivi Fabio? Ma questa è una cosa poi che la società sarà consapevole lei di elencarli e il mio compito è quello di ottenere il massimo. Naturalmente dai Sernino si viene Isernia per vincere altrimenti per me non vale. Quindi Isernia quest'anno che campionato farà già per vincere il campionato oppure è transizione il primo anno? Ma io da sempre vado in campo per vincere, è quello che chiedo alla mia squadra. Quindi andremo in campo giornata dopo giornata per i tre punti e tireremo le somme alla fine. Qualche idea ce l'ha già per i giocatori? Ma ho più che qualche idea, ho le idee chiare, chiarissime, però naturalmente ora siamo all'inizio, sarà compito dalla società del direttore muoversi e nei prossimi giorni sapremo sicuramente di più. E in bocca al lupo Fabio Di Rienzo. Grazie, viva il lupo. Grazie.